Si accentra Torromino, appoggia dietro per Mancoso che va al tiro e la rete! Che gol! Che gol signori! 1-0 del Lecce al sedicesimo! Si fa vedere anche Stefano Guberti, 2-2, Guberti contro Sané, Guberti! Stefano Guberti, 2-0, ma che dormita della difesa della Vitervese e che gol, che giocatore! Contro un attacco così pericoloso, attenzione a Sanna, che recupera il pallone, serve Curcio, ancora Sanna, la rete! Sulla linea di fondo, ancora Gunseglie, il cross al centro, pallone per Ragazzu che contro l'Aggio, vantaggio dell'Ordia! Daniele Ragazzu! Anticipa secondo, scambia con Muroni, ancora Bianco, va via sulla destra, prova il cross al centro per Ragazzu, il destro di Ragazzu, il raddoppio dell'Ordia! Grandissimo gol dell'Ordia, minuto 16! Forse definitivamente questa partita, parte Ragazzu, il destro di Ragazzu e c'è la tripletta del numero 10 dell'Ordia! Decolla, Mastino, dribbling, poi tira in porta! Gran gol, 2-0 per lo Spezia, un colpo perfetto di Mastino e sono due! Inback, Ballou, needs to get it across, in flick forward! Mankosu! Goal! Moncway, a goal, a sixth of the season scored! Fattori del mister prima della partita! Basta! 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 Basta!